In esclusiva per Grifo Stadium ai microfoni di Tef Channel, Gabriele Angella, pilastro di difesa del Perugia. Ciao Gabriele. Ciao a tutti. Il tuo arrivo si è subito notato, già al debutto contro il Chievo, anche Massimo Oddo in conferenza, ha detto che è un giocatore che ha letture difensive. Allora, partiamo da qui. Perché nella tua scelta Perugia? Perché è una società gloriosa, una società importante, con passato importante, è una società che mi ha dato fiducia. Grazie al Presidente, al Direttore e al Mister sono venuto qua, li ringrazio per questa fiducia e spero di ripagarla. Che cosa ti hanno detto nell'ordine Roberto Goretti prima e Massimo Oddo poi? Mi hanno detto che devo venire qua con l'atteggiamento giusto e con la mentalità giusta per dare una mano ai giovani e per far crescere anche la qualità della squadra, è normale. Ho dato la mia disponibilità, ci ho pensato un attimino prima di dire sì, però credo che sia giusto pensarci per bene, per poi arrivare qua con l'atteggiamento giusto e la voglia di far bene, di dare tutto. Massimo Oddo ce l'aveva avuto anche a Udine come allenatore, come l'hai ritrovato? No, no, il Mister l'ho ritrovato... E parlare bene per forza. C'è un po' di pancetta, no, no, l'ho ritrovato bene, con tanta voglia di fare, come ce l'aveva del resto a Udine e a livello di preparazione della partita penso che sia uno dei migliori Mister che io ho avuto e anche a livello psicologico è molto bravo. E quindi anche per questo ho scelto di venire a Udine e di potergli dare una mano, ecco. Insieme al suo staff penso che siano veramente preparati. Tu conosci la Serie A, conosci anche se poco, perché l'hai fatta poco o nulla, la Serie B, hai esperienza nei campionati esteri, in Belgio, in Inghilterra, questo Perugia dove può arrivare? Questo Perugia deve pensare partita dopo partita, cercare di esprimere sempre il proprio gioco, le idee dell'allenatore, penso che nelle prime due partite l'abbiamo fatto. e poi vediamo, abbiamo tanti giovani di qualità che possano far bene e che hanno voglia di arrivare in palcoscenici più importanti. Insieme a noi, con più esperienza, cercheremo di fare il massimo per poter fare qualcosa di importante per noi, per i tifosi, per la società e per tutti quelli che amano questa maglia. Tanti giovani di qualità, un nome su tutti è stata una scoperta per tanti tifosi del Perugia, insomma che non lo conoscevano, che è Andrea Balic, che ha fatto vedere davvero ottime cose nell'amichevole contro la Fiorentina. Chi lo conosceva da tempo è Gabriele Angela. Sì, sì, ma io ho visto la partita su internet, no? Su internet e ha fatto una buona partita. a grandi qualità sia a divisione di gioco, sia a livello tecnico e sicuramente può darci una grossa mano. La cosa importante è che abbia la fiducia della società e dell'allenatore per rendere al meglio. Penso che qui sia il posto giusto perché credo che possa ricevere queste qualità da parte della società e dell'allenatore. Penso che ci possa dare una grossa mano, anche per lui è una stagione importante, una stagione in cui dovrà far vedere le sue qualità. Che consiglio ti senti di dargli, visto che hai qualche anno in più, insomma? Ma il consiglio è di divertirsi, prima cosa, di essere concentrato all'allenamento dopo allenamento e poi penso che le qualità verranno fuori. Come l'hai ritrovato la stessa Romana di Massimo Oddo a distanza di qualche tempo? C'era anche quando segnò all'Inter nell'anno con Del Neri, ora è cresciuto. Come l'hai ritrovato Balic? No, come l'ho ritrovato? L'ho ritrovato più maturo, è normale. Ogni anno si cresce, si impara determinate cose e quindi spero che ci possa dare, anzi sono sicuro che ci darà una grossa mano insieme a Nicolussi, anche lui un giovane di prospettiva molto bravo. Tra l'altro Balic ha una grande duttilità a centrocampo, giocare sia da vertice basso che da mezzala, un po' come il piccolo Gabriele Angella. Sì, sì. Ora la mia fortuna è stata che mi hanno cambiato ruolo. In primavera, no? Sì, sì. Nelle giovanili facevo il centrocampista centrale, poi Ettore Donati mi faceva allenare da difensore, poi però durante il campionato giocavo da centrocampo, solo qualche partita l'ho fatta da difensore centrale, comunque poi in prima squadra sono andato da difensore centrale, poi la mia carriera si è tramutata da difensore centrale, ecco. Quindi devo solo ringraziare Ettore Donati per questa opportunità, per questa scelta che abbiamo condiviso. Tu sei di Montelupo, a due passi da Empoli, a Perugia, guarda un po', hai ritrovato un vicino di casa. Sì, sì, sì. E' venuto Fulignati, che è del mio stesso paese, siamo tutti e due di Montelupo-Fiorentino, quindi insomma è un po' strana questa cosa, no? E niente, sono molto contento di avere un compaesano nella stessa squadra, sicuramente le forze ci uniranno. Che cosa vi siete detti quando hai saputo che sarebbe arrivato, insomma? No, avevo già visto la notizia sul giornale e quindi subito gli ho inviato un messaggio per capire un po' com'era la situazione e poi, insomma, ci si messaggiava e ci si diceva ma sarebbe ganso, sarebbe bellino, no? Essere tutti e due nella stessa squadra di Montelupo e quindi, insomma, sarebbe assurdo, no? È una cosa un po' strana, però bella. È un Perugia che ha diverse alternative anche nel reparto arretrato. Oramai sei entrato a pieno regime, che idea ti sei fatto? Parliamo soprattutto del reparto difensivo. Allora, cosa fondamentale secondo me per una squadra è essere un gruppo unito, un gruppo affiatato. Molto importante è che ci siano compagni di reparto che si allenano al massimo e non hanno atteggiamenti negativi nei confronti della squadra. Questo penso sia già un punto importante di partenza per un gruppo che vuol far bene. Gionberg e io siamo molto compatti, molto uniti, parliamo e tutto, ma anche Sgarbi è molto bravo, è molto intelligente e ha voglia di dimostrare il suo valore e di far bene. Rodin stesso, io capisco che viene dall'estero e non è facile ambientarsi quando vai fuori, però insomma piano piano si ambienterà e farà vedere le proprie qualità, ecco. Poi per quanto riguarda i terzini, sono tutti terzini ottimi, Di Chiara, Zita, che è un giovane molto interessante, ha fatto vedere e poi c'è anche Nicola Falasco che può fare sia al centrale sia a terzino sinistro e quindi siamo messi bene e tutti i ragazzi sono veramente bravi. Siamo un gruppo molto affiatato e a capo di questo gruppo c'è Rosi, insomma. A capo proprio, è il capitano, è il capitano e quindi è quello che decide, è quello che dà grande manforte alla squadra, a tutti i ragazzi se hanno bisogno, è importante. Non voglio lasciare Mazzocchi che è un ragazzo che in questo momento si è infortunato, però anche lui ha grande gamba, ha grande voglia e l'atteggiamento sempre positivo. Dalla difesa all'attacco, perché lo dicono i numeri, il Perugia quest'anno ha un attacco forte come non l'ha avuto mai negli ultimi anni. Sì, siamo Falcinelli, abbiamo Grande Iemme e poi Melchio, Capone, insomma. Siamo Fernandes, siamo una buona squadra, buon aiuto, che ha una qualità incredibile. Siamo, penso, una buona squadra se tutti continuano a remare dalla solita parte e hanno voglia di dimostrare il proprio valore nel momento in cui sono chiamati in causa. Ecco, questo è fondamentale. Intanto sei punti nelle prime due, si dice che chi ben comincia... C'è un dato statistico, corsi e ricorsi storici, primi due gol in Serie A di Gabriele e Angella arrivano contro il Chievo. Debutto a Perugia, guarda un po' contro chi? Contro il Chievo, quindi? E quindi... bene, sì. Bene, no, no. È importante aver fatto due buone prestazioni e aver portato a casa sei punti. E poi, come ripeto, dobbiamo pensare partita dopo partita. Sabato c'è la Juve Stavia. E Massimo Oddo ha detto che è la partita più difficile. È una partita molto complicata perché loro vengono a due risultati negativi e quindi verranno con il cortello fra denti e noi dovremmo tenere bene, esprimere il nostro calcio con personalità e portare a casa tre punti. Guardiamo oltre la Juve Stavia, quindi diciamo la Spezia, quindi diciamo Frosinone e poi diciamo Empoli, partita particolare per te che chiuderà il mese di settembre. È un mese di settembre che conterà quanto per il Perugia? Tutte le partite sono importanti. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ripeto, senza pensare oltre. Sicuramente sono partite fondamentali, ma come può essere Juve Stavia, può essere Empoli, può essere Frosinone, sono tutte partite importanti. Noi dobbiamo esprimere il nostro gioco, giocare con le idee che ci dice il Ministero, come prepariamo la partita e poi le nostre qualità vengano fuori. Se ti dico Nottingham, che cosa ti viene in mente? Se ti dico anche 30 gennaio 2014? Mi viene in mente un bel ricordo, un bel ricordo. Feci un gol di tacco, ecco, qualche volta succede. Premiato come gol più bello dell'anno in Inghilterra, come detto, nel 2014 nella gara di championship tra Watford e Nottingham Forest. Come l'hai fatto quel gol? Non so, un calcio d'angolo, sono andato sul primo palo e poi di tacco sono riuscito a prendere la palla e è andata dentro. Quindi continui a muoverti sul primo tuttora in allenamento, cercando il colpo di tacco? No, non si dice, sono segreti questi. Venerdì si chiude la campagna abbonamenti. Perugia ha vinto le prime due partite, Perugia che è qualificato anche per la Coppa Italia, meglio non si poteva iniziare. Gabriele Angela lancia un appello ai tifosi e perché abbonarsi quest'anno? Perché abbonarsi? Abbonarsi perché uno si vuole divertire, abbonarsi perché cercheremo di dare il massimo, anzi sicuramente daremo il massimo, daremo l'anima per questi colori, ecco. E poi sta a noi portare la gente allo stadio, ecco, con le vittorie e con il bel gioco. Ma abbonarsi anche per venire a vedere Gabriele Angela che segna di tacco? Ma va bene anche che arriva lì sulla linea e la metto dentro, non ci sono problemi, vanno bene tutti, i gol sono tutti buoni. Già con la Juve e Stavia? Vediamo, vediamo. Prima non prendiamolo, poi qualcuno gol fa. Grazie e in bocca al lupo a Gabriele Angela. Grazie a voi Crepi. Grazie. Grazie. Grazie.